I am the tiger Fino alla campana Grida lì Buma Ieri Valla a fuoco Vuoi ancora più fighting? Vuoi ancora più emozioni da vivere? Fighters Life ti offre quello che cerchi Live e on demand su tutti i tuoi dispositivi 24 ore su 24 7 giorni su 7 Accedi ai canali Fighters Life e vivi la tua passione Fighters Life è il primo canale sugli sport da combattimento Gratis e senza vincoli economici Per l'immagine dei tuoi eventi Scegli Fighters Life Scegli il meglio Amici e senza vincoli Amici di Mediasport Channel Amici social ben trovati ad una nuova puntata di Fighters Life Il nostro box e il nostro contenitore che si occupa di sport da combattimento a 360 gradi Questa sera si torna a parlare dopo tanto tempo di Muay Thai Lo facciamo con un ospite gratitissimo Un campione un ragazzo che ho la fortuna di conoscere personalmente di cui non posso che parlare bene sia per quello che fa all'interno del ring Quindi tra le 16 corde ma anche e soprattutto per le qualità umane Alessio Malatesta Ciao Alessio Ciao Valeria Buonasera Ecco una presentazione Mancava solo il violino Ma te la meriti Perché sei Sei veramente Un ragazzo e un fighter Che merita Andiamo subito A estrapolare Quella che è la nostra Quella che è la nostra intervista Come nasce Alessio Malatesta Fighter Come ti è scattato il fuoco sacro del combattimento Beh Scattata molto Molto tempo fa Quando ero ancora piccolo E ho iniziato diciamo con qualche sport Judo e Kung Fu Però ecco la Muay Thai è uno sport un po' più Diciamo di contatto Dove ti metti alla prova E conosci te stesso Quindi piano piano Diventa una passione E uno stile di vita Che Diventa una cosa di tutti i giorni Ti alzi E fai Fai la Muay Thai Fai questo sport Oh ecco Hai aperto una parentesi importante Perché Tu sei un professionista In quello che è il tuo lavoro Sei giovanissimo Perché ecco per tutti coloro Che non ti conoscono Che non conoscono bene la tua storia Tu quanti anni hai? 22? 21? 21 Ecco 21 anni Un ragazzo di 21 anni Che ha già alle spalle Più di 50 incontri Da professionista Nella disciplina Muay Thai Che ha combattuto praticamente in tutta Europa Francia, Svizzera, Austria, Angleterra Spagna Bulgaria Insomma Sei stato Praticamente Hai girato l'Europa Senza contare che Hai sostenuto anche Molti match in Thailandia Appunto nella patria Della Della Muay Thai E soprattutto Hai anche combattuto Negli stati più prestigiosi Della Thailandia Sì Lumpini Rajataman Blue Stadium Anche in Cambogia Siamo combattuti Cambogia è stato Stato bello Però ecco Rajataman è come se fosse il Colosseo Come se si parla del Colosseo Esatto Esatto Ecco Facciamo capire anche ai nostri Telespettatori Che Rajataman O Lumpini È come nel calcio Andare a parlare Del Maracanà Di Rio de Janeiro Oppure Il Camp Nou Di Barcellona Insomma Siamo a questi livelli A questi livelli qui E Ecco 21 anni Già una carriera Ben definita alle spalle Ovviamente Un futuro Tutto da scrivere Ma Ecco La cosa che Salta all'occhio È che Sei Un Sei un fighter Che non si tira Mai indietro Ossia Hai accettato Tutte le sfide Che ti si sono proposte Non hai mai fatto Il bilancino O il calcoletto Per rimanere imbattuto O per mantenere L'integrità Del tuo record Ale Non dico Non lo so Non piace giudicarmi Però ecco È difficile Dite no Ad un match Diciamo Come se sei Parti sconfitto Poi Come quello che va Su un gioco d'azzardo Beh Sai Noi di Fighters Life Ci occupiamo Anche e soprattutto Di pugilato E Dobbiamo dire Che invece Nella nobile arte pugilistica Purtroppo Troppo spesso Ci sono Dei calcoli Che vengono fatti Prima del match Perché magari Ci sono troppi rischi Perché magari C'è la possibilità Che C'è una percentuale Dove Dove Purtroppo Alta Dove si Si può uscire Sconfitti E quindi Spesso e volentieri Si cerca di evitare Determinati tipi di sfide Quello che magari Non succede Nelle discipline marziali Dove Si accetta Ogni tipo di sfida Certo C'è sempre una preparazione Non è che Vogliamo dire Che Si va allo sbaraglio Oppure Che Si accettano match Che sono Improponibili Però È ovvio Che con Una Ottima preparazione Con Un ottimo Training camp Con l'esperienza Giusta E con I passi giusti Che sono Che sono fatti Si può accettare Qualsiasi sfida Che sia sempre Nelle possibilità Di chi li accetta Ecco Certo Giusto Allora sappiamo Che la Questa settimana Andrai a combattere In Bulgaria Nel circuito Senci E Discuterai L'incontro principale Che sarà appunto Valevole Per il titolo Della promotion Di cui andrà a combattere Ecco Come procede La preparazione Di questo Di questo incontro Vale Bene Bene Diciamo È quasi Quasi finita E sta iniziando Con il carro del peso Per Per Rimanere Al giusto peso Per il match L'ha Preciata sempre bene Giusto Ecco L'infortunio Che ho avuto All'ultimo match Dal tie fight Ti ho combattuto Con le corde Qua Sulla mano Però Ecco Siamo andati Bene Siamo andati Abbiamo finito Quasi L'allenamento E Adesso andiamo Sabato Vediamo come Adesso E adesso Andiamo sabato Tu e papà Sempre con la valigia Pronta Salutiamo Ovviamente Con Un grande abbraccio Virtuale Anche Francesco Malatessa Che è tuo padre Il tuo maestro E Possiamo dire Anche il tuo manager Alessio Colui che Diciamo Si occupa Di gestire La tua La tua carriera E Sappiamo benissimo A un grande amico Alessio Cecchini Che anche lui Ci aiuta Con i match Ci troviamo Ci ha trovato Molti match Importanti E saluto E saluto Anche Alessio Cecchini Anche lui Il mio amico Insieme Al papà E Quindi ecco Un abbraccio Anche ad Alessio E Però ecco Tornando a papà Dicevo che Sappiamo benissimo Che i fighters Soprattutto Di Muay Thai Vivono Si allenano Quelli più forti I grandi campioni Tailandesi In un camp Si ha sempre Un camp Di riferimento Anzi Spesso I grandi fighters Tailandesi Prendono addirittura Il nome del camp Che rappresentano Perché Nella Nella filosofia Thai È molto importante Anche Diciamo Le radici Il maestro Il camp E tutto quello Che rappresenta Tu sei uno Dei pochi Che ha la possibilità Di avere Un tuo camp Quindi All'interno Diciamo Di casa Insieme a tuo padre E mettiamoci pure Tua sorella Perché so che anche lei È una grande guerriera Avete il vostro camp Quindi Vivete La Muay Thai A 360 gradi 365 giorni l'anno Si Si Vero Vero Ecco È È bello È una bella esperienza Anche Difficile Molte volte Difficile Anche allenarsi Tutti i giorni Quando sei stanco Tutto quanto Però È questo qui Lo stile di vita Di questa arte marziale Beh Voi siete Diciamo Uno spaccato Occidentale Però che si rifà Quasi completamente A quelli che sono Gli usi e costumi Di quello che sono I Guerrieri Thai Thai Thailandesi Ossia Vivete nel camp O comunque sia Vivete il camp E 365 giorni l'anno Tu sei un professionista Della Muay Thai Quindi Ti dedichi A questa disciplina A questa professione In maniera proprio Professionale Quindi Pur avendo solo 21 anni Hai deciso Che questa È la tua È la tua strada E E E Non Quindi Questo è anche il tuo lavoro Alessio Giusto? Sì Diciamo Diciamo Sì Vivo Vivo Con Con questo sport Vivo Con i combattimenti E Sì Diciamo Un lavoro Come un lavoro Per me E è difficile Riuscire A prescindere Insomma Che credo Che sia Una lua libera scelta Il fatto Di poter Fare questo tipo Di Di attività A 360 gradi Però Ecco Sappiamo benissimo I sacrifici Che deve fare Un professionista Della Devi sport Da combattimento Ecco Ti pesa Dover Cioè Dover rinunciare A 21 anni Che ne so Ecco Ad andare Con gli amici Mangia una pizza Fa tardi la notte Andà a ballare A prescindere Che sono Attività Che Ti piace O non piace fare Però Chi vive Di questo Deve comunque Avere Anche una testa Da professionista Oltre che A salire sul ring Come professionista Diciamo Sono sforzi Che Sono anche giusti Per forza Non puoi Sforare con le Con le diete O ecco Andare Fa tardi E poi La mattina Non ti alleni Perché hai fatto tardi Quindi Quindi Diciamo Sei concentrato Su Su Quella linea Di andamento Di allenamento Di tutto quanto Quindi Pesa Non pesa Ma Cioè Preferisco Preferisco Allenarmi meglio E combattere meglio Che Non Fanno allenamento Diciamo A cavolo E poi Dopo I risultati Si vedono Sul ring E come si dice Il ring Poi è come il noto Che arriva al pettine Se poi non ha lavorato bene Non perdona Ale Senti Alessio Sono soddisfatto Assolutamente E si vede Si vede Perché poi Io ho avuto la fortuna Di Poter annunciare Alcuni dei tuoi match E ti ho visto Sempre Sempre Preparato Sempre Concentrato Sempre Pronto Per qualsiasi Tipo di Di match E di avversario Che avevi Che avevi davanti Quindi sempre Un professionista E sempre Professionale Sia da parte Tua E da parte Di tutto Il tuo Da parte Di tutto Il tuo team E Hai combattuto Anche Nel circuito Tie fight Non so Quanto tempo fa Forse un mese fa Hai combattuto Nel Nel Car check style Quindi A mani cordate Ale Giusto? Si si Che differenza C'è tra Combattere Un match Di muay thai Full rules Quindi comunque Con l'uso Dei gommi Di tutto Quanto Ovviamente Sei professionista E combatti Sempre Con questo Con questo Tipo di Regole Però Con le Mani cordate Rispetto Ai classici Guantoni Quali sono Le differenze Sostanziali? Guarda Io Mi ci sono trovato Bene Dall'inizio Certo I colpi Si sentono Si sentono Forse Ancora di più Però Sono comode E anche Mi ci sono trovato Bene Anche Con gli scambi Di braccia E Un po' Che sei anche Libero Con le mani Con le dita La differenza È tanta È tanta Rispetto A Guantoni Però Mi è piaciuta Mi è piaciuta Beh Allora Andiamo Facciamo un piccolo Passo indietro Perché Qualcuno Magari Che ci sta Vedendo Non ha capito bene Di quello che stiamo parlando Allora Il Karchek Style Nella Muay Thai È un incontro A mani cordate Un pochino Facendo Ecco Ovviamente Si parla Di 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 televisione Si parla Di cinema Un pochino Quello che succedeva Contra Van Damme E Tom Po Senza esclusione Di colpi Quando Combattevano Loro Dicevano Nell'antico modo Quindi si facevano Questi vendaggi Di corda Poi loro Hanno un pochino Americanizzato Perché mettevano Queste corde Nella resina E poi ci mettevano Dei vetri Che si appiscicavano Sopra Non funziona così Nella Muay Thai Ci sta solamente Questo vendaggio Accorde Ma Pensate un attimino Quando arrivano Dei colpi O comunque Dele No Non arriva Fino al gomito Il vendaggio No Fino a qua Almeno Arriva fino a Metà Avambraccio Però quando ti arriva Un colpo Assestato Senza guanto Quindi solamente Con la corda Lo senti Penso Almeno il doppio Se non il triplo Ale È bello È bello duro Il colpo È bello duro Quindi È uno spettacolo Perché vedere Un match Con questo Con questo Tipo di regole Veramente Ti toglie il fiato E ti fa capire Quella che è La bellezza Di questa disciplina Però ti fa anche Comprendere Tutto il lavoro Tutto il sacrificio Ma anche Tutto il coraggio Che ci vuole Per Per essere Un Un Combattente Di Muay Thai Ale Io adesso Ti devo aprire Una piccola ferita Purtroppo Perché ti devo Fare una domanda Sul match Sul Thai fight Contro Senchai Sì Match bellissimo Un match Tre round Al Thai fight Roma Dove È stato È stato Dato un pari Un pari Contro Un mostro Sacro Della Muay Thai All time Quindi di tutti i tempi Io ero presente Chi era presente Sappiamo benissimo Che tu quel match Non l'hai pareggiato E non lo hai neanche perso Però Come Diciamo Succede Soprattutto Negli sport Marziali Avete Accettato Il Il Verdetto E la decisione Che è stata La decisione Che è stata presa Ma cosa Ti ha lasciato Quel match Con Senchai Sicuramente Un grande ricordo Veramente È stata Una bella emozione Affrontare Ecco Lui Senchai E Veramente Non era un match facile Abbiamo studiato Abbiamo studiato tanto Mi sono allenato tanto Su come si muove a lui Quello che poteva fare Quello che fa di solito Nei suoi combattimenti È stato bello Tutto quanto Non solo Sul ring Ma anche Tutto quello che C'è stato intorno Sia Anche La gente Che stava lì A supportarmi Tutto quanto È stata Una bella esperienza E un bel ricordo Allora Però Ecco Ti faccio proprio La domanda A bruciapelo È più La delusione Di non aver visto Il tuo braccio alzato Quindi la vittoria Oppure Ti senti soddisfatto Perché Magari Quella prestazione Ti ha dato Tanta forza Soprattutto Per il futuro E tanta consapevolezza In più Delle tue possibilità Sì Un po' Un po' Mi è dispiaciuto Ecco Del verdetto Anche se Chi c'era Sa Giusto Ecco Per Diciamo Sul curriculum Quello che potrebbe Che potrebbe Essere scritto Però Comunque Sono contento Per come andate Sono contento Sì Innanzitutto Allora Facciamo una piccola postilla Chiunque voglia vedere Questo match Può andare Tranquillamente Su YouTube E cercare Il link Malatesta Senchai Il match è stato svolto Al Thai Roma 2023 Organizzato dal team Colonnese Promotion Un evento Meraviglioso Alessio Malatesta Alessio Malatesta Ti ringrazio Ti ringrazio per questa Chiacchierata Ti ringrazio per questa chiacchierata È stato un piacere Ti voglio fare un'ultima domanda Quale match Quale match Ti piacerebbe disputare Se tu adesso Potresti scegliere Un avversario E un campionato Un titolo Comunque Una location Importante Chi ti piacerebbe Sfidare E perché E poi Tra tutti i match Che hai disputato Magari quelli Che non sono andati Proprio come Come volevi Se ne vorresti Se vorresti Ridisputare Questo match Contro chi Bella domanda La risposta È difficile Non saprei Non saprei Né contro chi Sì Magari C'è sta Qualche match Che mi sarebbe Caciuto rifare Che magari Non sono andato Come volevo Dimmene uno Quello Il primo Che ti viene in mente Non so Non c'ho idea Non c'ho idea Veramente Comunque Accetto Qualsiasi match Che mi procurranno Ecco Sicuramente Spero sempre A un buon stadio Un buon evento Magari in Talandia Non so Non so Allora Cari amici Vai Un buon avversario Che Potrei 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 Ecco Essere contento Di rispidare Ritte Wada Per Cindy Che Diciamo È una brava persona È anche Un forte È un forte Combattente Chissà Te lo Te lo auguriamo Te lo auguriamo Però ecco Volevo una curiosità A prescindere che la Thailandia È la patria Del Muay Thai Senti più il match Quando sei fuori Quindi magari Ecco In Thailandia Oppure Preferisci Combattere in casa Davanti al tuo pubblico Quali sono le emozioni So contrastanti Anche se tu sei abbastanza freddo Sul ring Non è che ti lasci tanto Trasportata Alle emozioni Diciamo Più Preferisci più Combattere in casa Davanti al tuo pubblico No Diciamo No Che Diciamo Per me È uguale Sono abbastanza Abbastanza Freddo È uguale Certo Sono due atmosfere diverse Sono Però se dovessi scegliere Ecco Questo match Importante Che ti auguri Preferiresti farlo Magari a Roma O in Thailandia Thailandia Penso Thailandia Non avevo dubbi Non avevo dubbi Perché Per quel poco Che sono riuscito A capire di te Sei un ragazzo Che è molto Focalizzato Su quello Che è il suo lavoro E Quindi Ecco Non ti lasci Emozionare Neanche ecco Combattendo in casa Davanti a Trecento Tanta gente Che ti segue Perché tutte le volte Che combatti Hai veramente Una curva Che ti viene Che ti viene a vedere A sostenere E Veramente Che 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 si sgola Per te Dalle tribune Però tu riesci Sempre a mantenere Quella calma E Riesci a fare Sempre il tuo lavoro Con il massimo Della Della professionalità Quindi Ecco Questo è un aspetto Che mi piace molto Tra i due Forse guarda Colui che si lascia più Trasportare le emozioni È tuo padre Che all'angolo Cioè io vorrei Veramente Che una volta Qualcuno Mi faccia Questo regalo Che quando tu combatti Nei punti Una telecamera Su Francesco Ma la testa Perché Vederlo all'angolo Quando combatti È uno spettacolo Vero Guarda Veramente Uno spettacolo Alessio Annunciarti E tu A vincere il tuo match Grazie Grazie Valerio Grazie Un saluto Un saluto Un saluto Un saluto a te Per Per avermi ospitato A questa intervista Mi fa molto piacere E ovviamente Un saluto a tutta la gente Che mi segue Grazie ancora Ringraziamo ancora Da Alessio Malatesta Amici di Fighters Life Si conclude Anche questa puntata Vi invito sempre A rimanere con noi Vi invito sempre A sostenerci Perché Fighters Life Is the next Generation Of Fighters Buonanotte a tutti E alla prossima settimana Anche questa puntata Por tu E alla prossima settimana Nel cuore di ogni italiano c'è la passione, la forza e la determinazione. Per secoli, la Federazione Pugilistica Italiana ha custodito l'eredità di una nazione di guerrieri. Oggi, come ieri, siamo fieri di appartenere ed essere pugili. Oggi, Fighters Life mediaticamente incarna la passione italiana del saper lottare e di ostentare sacrifici oltre ogni impensabile obiettivo. Sia che tu sia un principiante che desidera imparare o un campione che aspira a nuove vette, ti spingeremo oltre i tuoi limiti. Unisciti a noi, perché insieme possiamo superare ogni ostacolo e raggiungere la grandezza. Lascia che la tua passione si trasformi in viola. La Federazione Pugilistica Italiana